Nel 1994 il professor Giacinto Auriti, docente di diritto, denunciò la Banca d'Italia, Carlo Azzaglio Ciampi, all'epoca governatore della stessa, e in seguito Antonio Fazio, successore di Ciampi nella medesima carica, esponendo la pratica del signoraggio alla corte che, non potendo negare la veridicità dei fatti, ha potuto solo constatare che di reato non si trattasse, semplicemente in quanto consuetudine. In altre parole, truffa o no, si può fare perché si è sempre fatto così. Come a dire che se commetti uno stupro, commetti un reato, se gli stupri sono mille, eserciti una consuetudine, e tutto va bene.